Sicuramente significa avere a disposizione una grande opportunità, una grande opportunità sicuramente migliorativa per quanto riguarda lo step della mia carriera, sicuramente un'opportunità che comunque arriva sì alla seconda esperienza ma arriva al decimo anno d'allenatore, perché per un infortunio ho smisi di giocare abbastanza presto e a mio avviso ho avuto la fortuna di fare tutta la trafila del settore giovanile perché spesso e volentieri viene considerata meno importante magari di una carriera sicuramente fatta di adulti, io dico che non è meno importante, è differente perché si ha a che fare sicuramente con dinamiche diverse, più di gestione che di calcio perché credo che un settore giovanile sia molto formativo e quindi a mio avviso arriva per me questa opportunità sicuramente da sfruttare nel migliore dei modi. Ho girato diverse situazioni anche da giocatore e credo che abbiamo trovato un ambiente, una società, un sistema organizzativo davvero importante che in questo momento ci sta permettendo di pensare esclusivamente a fare il nostro dovere. Quindi questo io credo che sia un vantaggio per tutti i componenti di questa società e quindi credo che da parte nostra ci sia davvero solo grandissimo entusiasmo di entrare a farne parte e di cercare di dare il nostro contributo per continuare questo processo migliorativo. Sicuramente il giudizio è ottimo perché la squadra è stata rinforzata al momento oltre alle riconferme dei giocatori che c'erano già a disposizione con due giocatori importanti, molto importanti per la categoria come Beghe Teccià, con dei giovani di prospettiva. Quindi in questo momento c'è grande soddisfazione per come ha operato la società. Poi in questo momento non abbiamo fretta per fare delle altre operazioni, sicuramente in questo sono sicuro del lavoro che continueranno a fare il presidente, il direttore generale e il direttore sportivo. Quindi sono veramente sereno di quello che andranno a fare da qua alla fine del campionato.